Lorena Bianchetti è una delle conduttrici più apprezzate. Lavora in Rai ormai da tantissimi anni, dopo aver preso parte a numerosi programmi TV, aver condotto il telegiornale ed aver recitato in alcune fiction. La giornalista è imposta sul piccolo schermo con il programma religioso a sua immagine. Nel 2015 ha deciso di convolare a nozze con il compagno e attuale marito Bernardo De Luca. Una decisione presa solo tre mesi dopo la loro conoscenza. L'uomo non fa parte del mondo dello spettacolo, infatti è un ristoratore e chef. Dalla loro unione è nata una bambina, Estelle, arrivata quattro anni dopo il matrimonio nel 2019. Nonostante il giorno del matrimonio, si è sempre ricordato come uno degli eventi più belli. Questo si può dire solo in parte per Lorena. Per la conduttrice, infatti, quel giorno rimane un ricordo in parte doloroso. La morte del padre è stata improvvisa, che l'ha segnata profondamente. Per la conduttrice, il giorno delle sue nozze rimane un ricordo doloroso. La morte del padre è stata un fulmine a ciel sereno. Un evento drammatico che ha scombussolato la giornalista e tutta la sua famiglia. E pensare che Lorena e Bernardo dovevano sposarsi qualche giorno dopo, precisamente il 23 settembre. Solo un evento fortuito ha permesso loro di celebrare il matrimonio il 9 settembre 2015. In questo modo, la giornalista è stata accompagnata dal padre all'altare. «Mio papà è mancato tre giorni dopo il nostro matrimonio, ma sono felice che ci sia stato», ha raccontato Lorena qualche tempo fa. Poi ha rivelato che il decesso è avvenuto proprio quando lei e Bernardo dovevano partire per il viaggio di nozze. Per fortuna, non se ne è reso conto. Lo strappo è stato fortissimo. Quando perdi un amore così grande, quell'amore non scompare mai, ma nemmeno il dolore. Ci impari a convivere, ma una felicità piena in tutti i sensi è sempre più difficile. Se il cambio di data all'inizio poteva risultare fastidioso, alla fine è stato visto come un dono. Il Signore a cui siamo andati a prenotare la Chiesa ci ha detto «No, sposatevi prima». Una coincidenza.